Ci ha stupito come attrice in Chiamatemi Gio, con il suo entusiasmo in My Camp Rock 2 e con la partecipazione a Ballando con le Stelle, Sara Santostasi ha dimostrato di essere una grande ballerina. E ora va a tutto ritmo per insegnarvi lo stile di Sissi e Rocky. A tutto ritmo Dance Time. Pronti ad andare al ritmo del Shake Your Body? Ok, prima ve lo facciamo vedere piano piano, poi lo studiamo. Sette, otto, uno, due, tre, e qua, e ci, e sei, sette, otto. Lo dividiamo sempre su due e quattro. Sette, otto, uno, due. Quindi mentre vado dietro il braccio gira, faccio la stessa cosa dall'altra parte. Tre e quattro, quindi c'è un cambio peso dietro, avanti, che viene chiamato Ball Change. Quindi facciamo di nuovo, uno, due, tre e quattro. Ancora una volta, sette, otto, uno, due, tre, e quattro. Perfetto, da qua andiamo avanti, e cinque, e sei. Quindi la spalla sale, e cinque, e sei. Le braccia aprono sette e chiudono a otto. Facciamo di nuovo, e cinque, sei, sette, otto. Proviamo a legarlo tutto insieme, lo facciamo piano piano però. Sette, otto, uno, due, tre, e quattro, e cinque, e sei, sette, otto. Siccome sono bravi, proviamo a velocizzare un po'. Lo facciamo a una velocità media però. Sette, otto, uno, due, tre, e quattro, e cinque, e sei, sette, otto. Direi che forse dobbiamo complicare le cose. Lo facciamo a una velocità ancora maggiore. Un, due, tre, e quattro, e cinque, e sei, sette, otto. Bravi, abbiamo imparato un altro passo. Seguite la programmazione per imparare altri passi ed allenatevi, eh. Perché a settembre toccherà a voi andare a tutto ritmo come Sissi e Rocky con A Tutto Ritmo Dance Time. Da settembre, solo a Disney Channel.